E' tutto pronto e ci sono ancora posti disponibili per partecipare alla tre giorni, da venerdì 22 a domenica 24 settembre, nel convegno regionale promosso dal GRIS, il gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa, che quest'anno ha scelto Andrea come sede del confronto formativo. Il tema di questa edizione è relativo alla metamorfosi del sacro, tra neopaganesimo e ateismo, e le sue derive, con particolare riferimento ai giovani, verso le sette sataniche, l'esoterismo e la magia. La premessa a questo convegno è data proprio dalla situazione in cui stiamo vivendo. Molti giovani stanno abbandonando i veri valori e purtroppo si stanno aprendo a valori che sono pseudovalori. C'è una deriva negativa in questa metamorfosi del sacro che sta facendo dilagare fra i giovani l'amore per l'esoterismo, per la magia, per il satanismo, rocca acido e tutto ciò che può portare a una distruttività del genere umano. Al convegno prenderanno parte, tra i diversi relatori, il vescovo di Andrea, Monsignor Luigi Mansi, che aprirà i lavori, e François Dermin, presidente nazionale del Gris. L'incontro è aperto a tutti, in modo particolare io direi per gli operatori pastorali e anche i docenti, i docenti che molte volte vivono in classe, delle dinamiche che li portano magari a capire come un ragazzo apparentemente tranquillo abbia magari dei divari e delle situazioni psicologiche e anche religiose che gli fa scegliere l'autodistruzione invece che una vita anche realizzata non solo dal punto di vista umano e civile, ma anche spirituale, perché non possiamo mai dimenticare la nostra dimensione spirituale.